Signori bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake Nell'episodio precedente siamo arrivati in questa centrale di polizia Abbiamo conosciuto Marvin, sarebbe il tenente che ci ha salvato mentre uscivamo da qui Abbiamo recuperato il taccuino dove c'è una soluzione in teoria per uscire da questa centrale di polizia Che poi è alquanto strana con tutte queste statue e questi passaggi segreti Magari troveremo informazioni anche su questo E in più ho deciso di usare la pistola di Walker Lui, perché? La pistola di... ah ma qua sono i tasti rapidi, allora mettiamola nell'uno Esaminando questa pistola, vedi, ci dice che questa pistola è stata progettata dallo stesso Albert Wasker Quest'arma vanta delle prestazioni incredibili E in più un'altra cosa bella è che se faccio così in teoria Insomma pensavo di poter togliere i colpi Io direi di posare la Matilde E abbiamo quattro colpi, pazienza però utilizziamo questa pistola qui Non la ricarichiamo più la Matilde, se no ce la prendiamo nel culo Bene Il nostro obiettivo, o io mi sono pure depositato un paio di cose in alimentario Il nostro obiettivo è trovare i tre medaglioni Quindi dobbiamo vedere in questa zona della mappa Noi siamo nell'atrio principale Questa è chiusa, questo è chiuso Qua c'è il forziere, il coso per scaricare Qua c'è una roba, ma possiamo vederla pure Ah, statua della Dea, ok Eh, l'unica cosa che possiamo vedere è controllare il piano superiore Vediamo così Perfetto Qua vabbè la statua del leone Ah ma Ah ok La statua del leone Aspetta, aspetta Fammi controllare il taccuino Come si fa? Ok, è un leone Un grano Un coso bascello di grano Quello che è È un'aquila Vediamo se funziona così Leone Grano E'aquila Perfetto Ok, abbiamo il medaglione del leone Vediamo, fatemelo vedere Un grosso medaglione ornamentale Con un rilievo di leone feroce Però dietro c'è pure disegnato qualcosa Tipo Una donna che abbraccia un'altra donna Magari la figlia che abbraccia la madre Bene, adesso che abbiamo il leone In teoria questo medaglione possiamo direttamente metterlo qui Bisogna capire adesso qual è l'ordine Ah no, ok Lo mette in automatico Orca puttana Eh, servono tutti gli altri medaglioni Però già abbiamo risolto Quello che c'è sull'atrio principale Non abbiamo più la strada del leone Non ci resta che andare a esplorare il bordello qui Ma io ho posato il pugnale No, fatemi prendere il pugnale Ah, qua posso tagliare questa roba Ci voleva il coltello E posso aprirmi quest'aria Comunque non vorrei dire Ma per quanto mi stia simpatico il tenente Marvin È così Eh, hai ragione Leon Per quanto Mi stia simpatico il tenente Marvin Che ci ha salvato il culo È vero anche che è stato morso Quindi prima o poi mi sa che si trasforma Oh, 11 colpi Ricarichiamo questa pistola Che ha un caricatore da 15 Perfetto, siamo full Io ho preso pure la Matilda L'altra pistola Semplicemente perché Almeno esauriamo prima I colpi di questa Così poi la depositiamo totale Cos'è? Ah, pianta verde Ah, beh, le piante verdi Sui residenti Vabbè, lo sappiamo come funzionano Le combini Cioè, possiamo anche usarla così Ha un effetto curativo Però combinata con una pianta rossa Amplifica il suo effetto Quindi conviene sempre Prima di usarlo Procurarsi anche la pianta rossa Ok, adesso siamo pronti Per visitare anche I balconcini Dell'atrio principale Qua ci vuole sempre Una chiave di picche Però è buono esaminare le porte Perché come vedete Poi ce le segna Porta di picche Vedete? Ce le segna E quindi Bene Oh, dei colpi Tanta roba, raga Tanta roba A difficoltà più alte Oh, con cui ci giriamo totale Comunque La difficoltà più alta Resident Evil Non mi piace Perché onestamente Gli zombie sono immortali Ci sta la difficoltà Però è vero anche Che puoi avere Complicazioni Con qualsiasi zombie Già così Lo vedete Lì a terra Ti si rialzano I colpi Sono comunque quelli che sono Loro ondeggiano Quindi puoi anche sbagliare Un po' la mira Diciamo che Anche così è difficile Devi comunque fare Una gestione dei colpi Poi se non sbaglio A estrema C'è pure la difficoltà In più che Non puoi salvare Quando vuoi Ma devi trovare I... Come cazzo si chiamano I nastri D'inchiostro Quelle robe Che ti permettono Di scrivere Nella stampante Dove salve Poi c'è un'altra pianta Verde Attenzione Oh una cassaforte Cioè Porca puttana C'è una cassaforte qua Ma non sappiamo La... La combinazione Vediamo qui Guida della città Benvenuto a Racconsidi La città che ospita La sede del colosso Farmaceutico Umbrella Corporation Porca puttana Eh La Umbrella Era proprio quella Che appunto Creava queste Queste armi chimiche Che poi è il virus Insomma Degli zombie In breve Racconsidi È una città Viva e dinamica Dalla storia lunga E importante In questa guida Scoprirai alcuni Dei luoghi più interessanti La nostra città Da offrire La centrale di polizia Di Racconsidi L'edificio al centro Della città Non è sempre stata Una centrale di polizia In passato Infatti Era la sede Di un museo d'arte Ah Ora si spiega Perché le statue Gli enigmi E tutte ste robe qua Alcuni elementi Della struttura Come l'insolita Torre dell'orologio E la statua Della dea L'altro principale Sono vestigia Di un tempo Ormai passato L'orfanotrofio A pochi isolati Dalla centrale di polizia Sorge l'orfanotrofio Fondato e gestito Da Umbrella Corporation Grazie anche Al generoso contributo Di aziende E privati cittadini L'edificio è noto Per la sua Colorata vetrata Che attrae esperti Da ogni parte Del mondo Eh Già questa breve nota Ci ha fatto capire Che comunque Questa centrale di polizia Dove siamo adesso Se è un pochino Insolita È proprio perché A un tempo Era un museo E qua c'è un'altra Porta di picche Che non possiamo aprire Nella sala d'attesa Quindi l'unica cosa Che possiamo fare Attualmente Vedendo un po' La nostra situation È quella di Qui abbiamo la sala d'attesa E dall'altro lato Abbiamo la porta di picche Direttamente Quindi sopra Non possiamo fare nulla A meno che non troviamo La porta di picche Mentre sotto Abbiamo Dove siamo passati noi Non so se possiamo Ripassare Però qua Nello sportello Informazione C'è una porta Che possiamo aprire Tipo qui Qua c'era una porta Che si apriva E ci sono pure Le scie di sangue Esattamente Madonna Cazzarola Stiamo attenti Oh Una radio Non ti alzare Ti prego Mamma mia Guarda qua Porca puttana Raga Scene brutte Scene brutte Scene sensibili Porca puttana Tu come cazzo Ci sei finito Comunque questo qui Ha una radio Non pensavo di prendere Invece solo lo controllo Porca di quel cane Bastardo Oddio ma chi è Marvin C'ha soniglia Eh Qua ci vuole La chiave di fiori Però è meglio Che le interagiamo Così almeno Ce le segniamo Sulla mappa E qua Non vedo niente C'è qua Comunque fa capire Che tutto questo bordello qua È successo in due giorni Dal 25 al 27 settembre Due giorni Il panico Oh Mappa centrale di polizia Primo piano Cercare Diciamo Dove dobbiamo andare Oh cazzo Ma qua possiamo salire Arrivederci Puttanello Madonna Qua indietro Cosa c'è Ok Quelle Delle munizioni Abbiamo 10 colpi Di Di ricarica Ma non c'è un modo Per abbassarmi No Ma pure con shift Apro la mappa Molto comodo Questa porta si apre È chiusa Fin quando non se ne accorge Ebbene Deposito Ok qua possiamo mettere Dei codici Ma mancano due tasti Il 2 e il 3 102 Ah mettiamo il codice Apre gli armadietti Però noi non abbiamo Il 2 Non abbiamo il 3 Porca puttana 109 Questo lo possiamo Prendere però Dobbiamo cercare Di aggirarlo Questo qui Questo possiamo evitare Allora 109 È solo questo 109 Perfetto Abbiamo dei colpi E questo mi pare Che è l'unico Che possiamo fare Vediamo se c'era 108 Ma non penso No non c'era Cos'è Nota terminale Armadietti Ah vabbè Ci spiega Ok Vabbè Tasti di Ci servono dei tasti Di ricambio Eh madonna Eh raga Due sono un problema Due sono un problema Ok 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 Posso andare Di qui Ah qua c'è Un altro bordello Queste sono Ste robe Pianta verde Assi di legno Per uno Posso barrare La finestra Posso barrare La finestra Posso barrare La finestra Prima che la spacca Trucchiala Non vi chiedete Come senza Chiodi Siamo attrezzati Ok Spero sia Una buona Scelta Che abbiamo fatto Qua dove Stracazzo Siamo Ah andando qua Posso salvare Ah ok Una safe room Abbiamo pure la scatola Oddio Meno male Fammi posare un po' Di piante verdi Perché onestamente Fin quando non troviamo la rossa È un po' inutile Poi non siamo manco feriti Benefici medici Delle piante Ah vabbè Qua ci spiega Le piante rosse Le piante verde Combinate Ok Cose che noi Già sappiamo Direi di sovrascrivere Il nostro salvataggio Ci abbiamo un'altra stanza Cos'è? Ah questa è la pianta rossa Sembrava rosa Però va bene Il cartello recita I negativi Contengono prove Non lasciateli incustoditi Ah qui è dove Potrei portare un rullino Insomma Ehm Va bene Fammi prendere una pianta La pianta verde Che la combiniamo Noi combiniamo questa con questa Otteniamo una miscela di piante Ed è una cura Che abbiamo A portata di mano Che per adesso Noi però La depositiamo Ok Questa è una safe room In teoria Nelle safe room Non possono attaccarci Quindi siamo salvi Da questo punto di vista Vediamo cosa c'è Sono ancora lì loro Ci manca questo Noi siamo attualmente Ehm Porca puttana Siamo nell'ufficio Alla ovest Cosa abbiamo qui Polvere da sparo Questa combinata Con un'altra polvere da sparo Crea i proiettili Vedi Due polvere da sparo Munizioni per pistola Polvere da sparo Più polvere da sparo Di alta qualità Cartucce per fucili E due polvere da sparo Di alta qualità Munizioni per il mag Che non so che cazzo sia Penso un fusile d'assalto Ok Qua c'è qualcosa Munizioni Cosa c'è scritto qua Non mi fa interagire Rapporto sull'operazione 28 settembre alle due e mezza Siamo rimasti solo io E altri tre E abbiamo deciso Di fare una cosa a quattro Niente armi Niente munizioni Le continue liti Ci hanno debilitato Mentalmente e fisicamente Non ce la faremo mai L'agente Philips Ha proposto di fuggire Passando per le fogne A quanto pare Qui sotto C'è un tunnel segreto Risalente ai tempi del museo Ah ecco Prima ero contrario all'idea Ma ora sto seriamente Iniziando a valutarla Certo Non abbiamo prove Che ci sia un tunnel O che le fogne Non siano infestate dagli zombie Ma d'altra parte Non voglio neanche stare qui Ad aspettare la morte E' un azzardo Ma voglio provare a scoprire qualcosa Su questo tunnel Elliot Edward E qua ci sono due catenacci Primo incarico della recluta Sarei io? Leon Kennedy Eccoti un caso molto speciale Come primo incarico La tua missione è Accedere alla tua scrivania Usando le iniziali Dei nostri nomi Inserisci nell'ordine Della casena Ci sono due serrature Sulla sul ciascun lato Della tua scrivania Ah guarda Giustamente Questo qui erano Tipo un regalo Una festa di benvenuto Per me Per Leon Però nella macchia di sangue Dopo tutto il disastro Che è successo C'è stato Sono felice Che tu non sia venuto Vedete Cazzo è molto triste Sta roba Quindi queste qui Sono le due serrature Con due lucchetti Queste serrature Devo mettere le iniziali Dei nomi In teoria ho visto che sono qua Sulla scrivania Eccolo N E D N E D N E T Ah Molto easy Molto easy Vediamo da questo lato M Rita E quindi R O un uomo non ti ha alzato Dove cazzo Ah è a terra Cazzo è G Quindi M R G M R G God Caricatore maggiorato Per Matilde E qua c'è la mia scrivania Leon Matilde Potenziato Certo ha il caricatore da 21 colpi Ed era pure carico Tra l'altro Quindi avendo le due pistole Non è che siamo messi malissimo Adesso Vediamo se in questa stanza C'è ancora qualcos'altro Da prendere Questa in teoria Si apre con la chiave di pick C'è messo che si apre Con la chiave di pick E dietro di me Si è alzato il demonio No Qua c'è questo suono Ah qua siamo dietro Altre stanze Ok Chi si è alzato Ah buongiorno Oddio Allora se passo di lì E' sicuro che si alza questo Lo sapevo No qua stanno scendo pure questi Madonna No qua sono chiuso Sono chiuso qui Porca puttana raga Devo per forza salire sopra Devo salire sopra Devo salire sopra Madonna il panico Non ti alzare Oh delle munizioni Siamo 18 colpi di scorta Ragazzi La stiamo giocando di lusso Porca puttana E' mai possibile Che non possiamo eliminarlo uno Ce ne sono troppi qua zombie E' vivo? Ah io lo vedo che si muove ancora raga E' ancora vivo E' morto? Mi sa che è morto ora E' morto Oh almeno uno raga che non si ria Oddio Mi sono cagato raga Mi sono cagato Mi stava inseguendo da morto Abbiamo una porta qua Ah il bagno degli uomini Ah è uno spogliatoio scusa Non è un bagno Armadietto Oh torca di quel cane malato Eh si Faccio un armadietto con il lucchetto Ma non sappiamo adesso quale può essere la combinazione Cartucce per il fucile Ma non abbiamo il fucile Cassetta di sicurezza portatile Premere un tasto per accendere la luce E inserire la cassetta I tasti vanno premuti in un certo ordine Ah questa è la cassetta di sicurezza portatile Aspetta Esamina Ah devo Vabbè devo cercare di ricordarmi la sequenza Porca puttana Ho capito Due ore che sono qui Allora uno Due Tre No aspetta Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Godo 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 Ok l'ho aperta Quindi cosa trovo qua dentro? Cos'è? Ah è un tasto No eccolo Il coso Il tasto di ricambio Questo possiamo portarlo lì Eh Beh mica però è pieno di zombie raga eh Qua non sappiamo ancora come si apre Qua penso ci voglia una valvola Per fermare Il coso Eh Porca puttana Ho scenduto alla nostra safe room E organizzarci un po' Qua volendo si può ancora risalire Allora Tanto scendiamo Andiamo a posare un paio di robe Porca madonna Allora Tanto Eh Allora il tasto adesso lo andiamo a mettere Colpi pompa Non abbiamo il pompa La polvere da sparo la posiamo per adesso Il tasto lo mettiamo Prendiamo la pianta rossa con una verde E le combiniamo Ma qua ci sono pure degli armadietti che non ho aperto io Tu sono cieco Eh Polvere da sparo Possiamo crearci delle munizioni Volendo E delle munizioni Diciamo che ce la stiamo giocando No di lusso Di più Raga Di più E adesso andiamo a metterci il tasto Magari grazie al tasto possiamo recuperare un oggetto utile Il problema è che qua è veramente pieno di zombie Diciamo che la zona dei tasti È una zona dove possiamo andarci spesso Io li Li eliminerei Questi zombie qui Esperando che sia morto Madonna Guarda questo Speriamo che è morto Usiamo il tasto Eh nel 2 o nel O mettiamolo nel 2 E quindi qual è 1-0-2 Mi pare che apriva qualcosa Ah polvere da sparo Eh dovremmo vedere Ce ne sono altre Tra l'altro noi non abbiamo manco preso le munizioni Qua abbiamo dei colpi 1-0-3 Non possiamo 1-0-6 Possiamo aprirlo 1-0-6 Eh morici Quindi 1-0-6 possiamo aprirlo Qua non avevamo preso manco i colpi Perché c'erano gli zombie Ok abbiamo 31 colpi Oh guarda qui ci vuole una tessera Oddio c'è il pompa Guardalo lì 2-0-8 possiamo farlo Quindi 2-0-8 e 1-0-6 possiamo aprirlo Si è rialzato Oh vai a cagare Questi dobbiamo eliminare Quindi 1-0-6 E questo qui ha l'aria di essere comunque il rullino E' 2-0-8 mi pare 2-0-8 Bene i colpi pompa Mamma mia ragazzi stiamo giocando troppo bene Bellissimo Bellissimo Quindi manca solo il 3 poi per aprire le ultime cose Minchia ho finito i colpi Prendiamo Ecco adesso posso depositare pure la pistola Questa è la pistola nuova Ah sto giro mi sa che c'è morto Ma è bene che ce li leviamo da qui ragazzi Perché qua ci torneremo per prendere il pompa Avere sempre le rotture di coglioni Di sti cosi Non è il massimo Eh facciate un altro No no noi dobbiamo ritornare Dobbiamo ritornare nella safe room Allora voglio vedere intanto se io posso rimuovere Pensavo di poter rimuovere i bordeli qua Il caricatore e metterlo sulla pistola Ma non si può rimuovere Ok la Matilda la posiamo Abbiamo i colpi Abbiamo polvere da sparo E anche 3 Che io per adesso la terrei Dal momento che non abbiamo per adesso bisogno Di farci delle munizioni Abbiamo la pistola di Walker Che sembra molto più forte Adesso possiamo mettere il rullino delle foto Oh foto ricordo Ed è una statua che tiene un libro E uno scettro tipo Ragazzuoli io direi di salutarci per questo episodio Resident Evil 2 dove comunque abbiamo esplorato gran parte dell'aria Nel prossimo episodio proveremo ad accedere per esempio qui Dove c'è una porta che passa agli archivi Abbiamo altre aree qua Possiamo salire ancora sul piano di sopra Vedere cosa possiamo fare diciamo Quindi io vi saluto Bella mia Ci vediamo alla prossima Ciao Grazie a tutti.